Sono stati premiati con una tre giorni di visita e iniziative organizzata da Fondazione CRC, i migliori studenti italiani che hanno partecipato al progetto didattico Conoscere la Borsa, promosso da fondazioni bancarie e casse di risparmio di tutta Europa. Un premio che coinvolge tante classi di istituti di tutta Italia, il premio Conoscere la Borsa, che consente ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori di cimentarsi su quello che è il risparmio, l'economia. A ognuno dei 35.000 team, 100.000 gli studenti coinvolti, 1.500 in provincia di Cuneo, è stato assegnato un capitale virtuale da investire in 175 titoli quotati nelle principali borse europee, attraverso un portale web dedicato. I migliori, cioè quelli che hanno saputo far fruttare meglio i loro soldi nei 100 giorni della simulazione, sono stati tre studenti del liceo pianopellico di Cuneo, primi in Italia e quarti in Europa. L'economia è una materia nuova per noi, per quelli dello scientifico, non l'abbiamo mai affrontata, non l'abbiamo mai studiata, però ci ha appassionato ed è quello che lo spirito di squadra ci ha fatto poi giungere a importanti risultati. Inizialmente abbiamo avuto un calo molto importante, ma abbiamo continuato comunque a crederci e a cercare comunque degli svolti e alla fine investendo su Snapchat e su altre azioni siamo riusciti comunque a ottenere un importante risultato. Si creavano delle competizioni a livello di compagni per vedere chi riusciva a guadagnare più dell'altro e forse anche questo ci ha spinti a investire in innovazioni e a cercare di guadagnare il più possibile che poi ci ha portato alla vittoria. Per premiare l'impegno degli studenti e dei loro docenti, Fondazione CRC con la regia di Claudio Alberto ha organizzato una tre giorni di visite e iniziative. Dalla salita alla cupola del santuario di Vicoforte all'incontro Ricordiamoci il futuro con Oscar Farinetti e lo spettacolo formativo dell'agenzia Taxi 1729.